Ti sei mai sentito usato da un'altra persona? Che sia un partner, un genitore, un amico. Fai tanto magari nella tua vita per far contenti gli altri, ci metti tutto il tuo impegno, dedichi tempo e poi magari sono i primi a metterti i piedi in testa e ad approfittarsi di te. Alla fine inizia a chiederti forse ho fatto troppo, ho fatto troppo poco. E alla fine dopo tanto impegno e fatica inizia a sentire una delusione che diventa sempre più profonda fino a volte a diventare rabbia. Sembra che nessuno riesca davvero a capirti. E alla fine inizia a chiederti cosa avrei potuto fare di diverso? dove ho sbagliato? E alla fine, un passetto dopo l'altro, inizia anche tu ad entrare nel giudizio perché senza strumenti è l'unica cosa che ti resta da fare. Inizia ad incolpare gli altri di come ti senti e in tutto questo processo ti rendi conto sempre di più che c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che va storto. È come se con le altre persone si ripetessero sempre le stesse dinamiche. Molte persone sembrano davvero essere delle calamite. Attraggono problemi, persone difficoltose, relazioni tossiche. Quasi come se il karma ce l'avesse con loro. E in un certo senso è così. Anche se io preferisco chiamarlo in un modo diverso. Infatti la vera causa che ci porta ad attrarre nella nostra vita persone disfunzionali che ci buttano giù sono i sistemi mentali associativi. Questi sistemi sono come dei loop mentali negativi che tendono a ripetersi nella nostra vita creando quella che viene chiamata in psicologia coazione a ripetere. Ovvero finché non compiamo un'azione profonda, correttiva si ripetono le stesse dinamiche. Infatti questi sistemi agiscono a livello inconsapevole nella mente delle persone. Finché non vengono compresi, accettati e quindi sbloccati definitivamente. Quando nelle relazioni le cose non vanno le persone pensano che cambiando partner cambiando amicizia, cambiando datore di lavoro le cose cambieranno davvero. Ma poi nel tempo si rendono conto che non era proprio così. Se mi allontano dalle persone che mi fanno stare male o che almeno credo mi fanno stare male nel breve periodo sicuramente sentirò un beneficio perché mi sentirò libero da quella persona. Ma in realtà io sto portando ancora con me le dinamiche che mi hanno permesso di attrarre quella persona nella mia vita. Quindi, indovina un po', per la regge di risonanza tenderò ad attrarre nel mio futuro una dinamica simile. È un po' come se l'universo o Dio voglia metterci alla prova finché non risolviamo i nostri sistemi mentali associativi comprendendoli e accettandoli. Spesso capita che cambiando una relazione di qualsiasi tipo magari cambiano le persone ma ci rendiamo conto poi che gli schemi e le dinamiche che si mettono in atto sono le stesse. È ovvio che sul piano fisico quelle persone che ci hanno fatto soffrire non hanno più la possibilità di influenzarci. Ma sul piano mentale lo schema che ci logorava continua ad operare indisturbato. Vedi, la mente non funziona così. Non basta un cambiamento superficiale per cambiare davvero. Ecco perché infatti molto spesso le persone rimangono bloccate in delle relazioni tossiche che si susseguono una dopo l'altra spesso purtroppo per la loro intera vita. E anche nel mio passato è accaduto esattamente questo. Accusavo i miei genitori prima di tutto le mie fidanzate alcuni amici il mio capo spesso chiudendo relazioni nella rabbia e senza integrare nel mio inconscio una benché minima lezione che mi potesse portare ad evolvere e quindi a non riattrarre la stessa dinamica nella mia vita. E infatti lo schema si ripeteva e finché ero bloccato nei miei vecchi loop negativi la mia vita non faceva altro che peggiorare di persona in persona di relazione in relazione. Mi sentivo sempre più sfigato mi sentivo sempre più emarginato mi sentivo sempre più solo. Spesso mi convincevo anche di aver capito ah no, questa volta ho capito non farò più questo errore. ma in realtà mi stavo solo raccontando l'ennesima storia per nascondere a me stesso prima di tutto e alle persone intorno a me il dolore che provavo quel senso di impotenza nel non riuscire veramente a circondarmi di persone che davvero mi facessero stare bene. continuavo infatti ad inciampare negli stessi problemi e attraverò in me praticamente solo persone negative ma ovviamente persone che erano in risonanza con la mia energia non potevo lamentarmi. Continuavo a dire ma è possibile che incontro solo persone negative che continuano a lamentarsi che borbottano su ogni cosa che non aspettano altro di buttarmi addosso tutti i loro drammi? Poi finalmente un giorno ho realizzato con grande fatica devo ammettere che anche io proprio come loro era una persona che stava giudicando mi stavo comportando proprio come loro. è lì che finalmente ho deciso ho alzato la mano ho capito che avevo delle lacune in termini di comunicazione di relazioni e mi sono fatto aiutare ma non è stato comunque facile perché seppur avevo capito che avevo bisogno d'aiuto ed era evidente ma ci ho voluto un po' per ammetterlo gli approcci almeno i primi che ho incontrato non mi davano quel senso di completezza che mi faceva veramente prendere in mano il cambiamento e integrarlo in profondità nella mia vita. Per iniziare ho fatto corsi di crescita personale ma seppur pieni di strumenti e tante strategie concrete che ho messo in atto e mi hanno sicuramente aiutato c'era qualcosa che in termini di relazioni comunque mi faceva stare male era un po' come se dovessi diventare un tipo di persona che in realtà non ero ho fatto psicoterapia mi sono fatto seguire da un terapeuta e seppur anche lì è stato utile perché siamo andati molto a fondo su tanti aspetti del mio passato comunque era come rimanere sempre bloccato alla fine non si prendeva mai una decisione definitiva e coraggiosa poi ho scoperto il mondo spirituale e non intendo religioso ma quel mondo che ci porta a scoprire noi stessi da una prospettiva totalmente diversa basata sull'energia sul sentire sulla presenza e lì devo dire che ho fatto un altro passo ulteriore dentro di me che mi ha permesso di integrare davvero tutte le consapevolezze che stavo scoprendo negli anni ho capito che l'unione di questi tre mondi ha fatto la differenza per me e fa la differenza per le persone mettere insieme strategie di coaching di crescita personale di psicologia e di spiritualità ti permette di avere una completezza un insieme un lavoro profondo e allo stesso tempo sostenibile e concreto così nel tempo poi ho costruito il mio metodo che si chiama risveglio direzionale con il quale ho aiutato negli anni migliaia e migliaia di persone e che è anche il protocollo che utilizzano i miei coach certificati una volta iniziati a sbloccare i miei sistemi mentali finalmente ho iniziato a migliorare la qualità delle mie relazioni e quindi di conseguenza della mia vita oggi riesco a comprendere con una velocità incredibile ciò che prima non riuscivo assolutamente a vedere riesco a gestire situazioni molto difficili e complesse in modo consapevole e presente senza andare nel panico senza far uscire la rabbia e soprattutto senza perdermi in tristezza emozioni depotenzianti e depressione e ora voglio spiegarti come puoi fare anche tu la stessa cosa se non mi conosci sono Daniele Di Benedetti sono un formatore un coach e un imprenditore in diversi settori che riguardano per la maggiore salute e benessere sono un autore bestseller ho scritto quattro libri commondatori che hanno venduto oltre 250.000 copie e sono diventati dei bestseller nazionali e devo dirti con tanta sincerità schiettezza e anche un po' di orgoglio che in questi ultimi 18 anni ho lavorato veramente molto su di me sono andato veramente tanto in profondità e nonostante abbia fatto così tanti passi in avanti e la mia vita sia totalmente stravolta in positivo non faccio altro che continuare a farmi aiutare che continuare a formarmi che continuare a lavorare su quelle parti di me che hanno bisogno di amore attenzione e affetto lo faccio perché ho capito quanto davvero fa la differenza lavorare su se stessi prendersi cura di sé a livello intimo ed emotivo oggi i nostri eventi vantano migliaia di persone che arrivano da tutta Italia anzi da tutta Europa tant'è che negli anni mi hanno citato anche telegiornali riviste giornali ti sto dicendo questo perché quello che facciamo funziona e può davvero aiutarti a riprendere in mano la tua vita la mia specialità con le persone è proprio quella di risvegliarle strumenti che abbracciano appunto il coaching la psicologia e la spiritualità li aiuto fondamentalmente a riscoprire se stesse e quindi a trovare serenità pace e felicità nella propria vita il mio impegno anche con il mio team di esperti è di aiutare più persone possibili a sbloccare i loro loop negativi ad andare oltre i loro sistemi mentali associativi per attrarre a loro le relazioni e quindi la vita che davvero desiderano perché quello lì senza ombra di dubbio è il miglior modo per viverla appieno le reazioni ricoprono un ruolo fondamentale nei nostri livelli di felicità e tu se inizi a lavorare su di te ti meriti delle relazioni sane e so che lo vuoi perché altrimenti non saresti arrivato fino a questo punto del video perciò preparati perché 5 febbraio dalle 19 alle 22 ho deciso di realizzare un evento totalmente gratuito che potrai vedere direttamente da casa tua ti parlerò di argomenti molto importanti che faranno la differenza nelle tue relazioni tra cui i 5 killer di ogni relazione come riconoscere e proteggerti dalle persone che si approfittano di te come identificare e superare i tuoi loop negativi che continuano a farti attrarre le stesse persone nella tua vita come gestire le relazioni difficili che hai nella tua vita genitori figli figli genitori relazioni di coppia con le amicizie lavorative e infine ti svelerò il protocollo che utilizzo ormai da tanti anni che ha aiutato ad oggi migliaia di persone a recuperare il loro benessere mentale e fisico ma non solo tutto questo ovviamente ti aiuterà a vivere la vita che davvero desideri ad attrarre a te le persone che ti meriti e questo è quello che succede quando inizi a dedicarti amore quando inizi a prendere cura di quelle parti di te bisognose quando inizi tu tu stesso a riempire i tuoi vuoti quindi prendi questa prima decisione coraggiosa clicca qui sotto iscriviti al webinar è totalmente gratuito e ci vediamo il 5 febbraio la tua svolta è già iniziata grazie a tutti